Sta diventando un appuntamento importante per gli appassionati del mondo del fumetto e non solo e quindi Varchinomics comincia a farsi conoscere non solo in Toscana ma anche al di fuori dei suoi non fini e lo stesso è per la città di Montevarchi. Questo è reso possibile grazie alle sinergie del circolo Benedetto Varchi di cui Varchinomics fa parte e dell'amministrazione immunale che ha reso questa manifestazione nel tempo importante. Per questa edizione abbiamo oltre al palazzetto coinvolto anche l'auditorio comunale dove quest'anno ci saranno diversi incontri con disegnatori appassionati del genere e l'edizione da un punto di vista diciamo filatelico sarà dedicata a Dylan Dong. Ecco perché Dylan Dong? perché ha un grosso seguito, ci sono grandi appassionati di questo fumetto e la Sergio Bonelli, editore, ci ha concesso gentilmente sia l'annullo sia le immagini per poter produrre delle cartoline e un libretto a ricordo della manifestazione. Grazie.